bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video questo è l'ottavo appuntamento signori del nostro calendario dell'avvento signori che si svolge ogni notte, ogni sera a mezzanotte grazie per tutto il supporto che mi state dando e soprattutto oggi è l'8 dicembre buon immacolato a tutti spero che abbiate fatto l'albero, il presepe, quello che dovete fare iniziamo con l'outfit di oggi oggi appunto essendo che è il primo giorno diciamo succoso di dicembre a parte il primo che inizia il calendario dell'avvento signori abbiamo l'operazione zabbaglione eccola qua signori bellissima skin con il backpack della ghirlanda e il bastoncino di zucchero come piccone uno dei picconi più belli del gioco così si presenta il bastone eccolo qua signori il bastone di caramella di natale vediamo subito i vari balletti oggi signori anche quello di natale che lo scorso episodio non l'abbiamo fatto eccolo qua e l'atmosfera isolana andiamo subito signori verso il calendario dell'avvento e vi voglio far vedere una cosa signori essendo che oggi è l'immacolata non avete addobbato solo voi ma anche solo voi ma anche noi abbiamo addobbato signori l'albero gigante è tornato abbiamo messo gli alberi di natale il rift beacon è rimasto fermo abbiamo messo gli alberi di natale appunto però il nostro catticone che abbiamo visto nello scorso episodio andare però poi non l'abbiamo più trovato non si è fatto più vivo è rimasto così signori ovviamente nella casa di babbo natale già c'era il grince non l'ha fatto non so perché ma l'ha fatto anche quel cittadino là che sinceramente non so chi sia andiamo subito verso il calendario dell'avvento questo è l'ottavo giorno quindi signori oggi c'è un'isola abbastanza speciale è per un po' i veterani del gaming si può dire? si ah e anche il tomato ha fatto l'albero di natale che ci crediato no rift beacon no no rift beacon dal burger o tomato anche lui ha fatto l'albero di natale è più piccolo di quello che ci sta prima però l'ha fatto l'ha fatto quindi scialla meglio per lui oggi vediamo appunto un'isola speciale signori l'isola di oggi è l'isola di minecraft 91 69 51 57 01 18 è l'isola di minecraft la detran di minecraft il parkour di minecraft è veramente una bella mappa ovviamente la faremo oggi in live quindi mi raccomando venite tutti in live che la facciamo insieme la detran di minecraft e mi raccomando che se riuscite a fare la detran fate una bella foto taggate amici di instagram che vi riposto oggi non abbiamo niente in particolare da vedere anche perché il razzo non sta aumentando più ormai sono tre episodi o due non mi ricordo che non aumenta più abbiamo il nostro rift beacon che pare che sia fermo lì e basta signori non è successo niente anche là sopra hanno addobbato signori per natale non è successo assolutamente niente oggi quindi raga oggi un po' un episodio breve una cosa però che sotto l'albero della casa di babbo natale vi voglio far vedere la casa di babbo natale oggi visto che è l'immacolato signori si parte così con i regali sotto l'albero ovviamente questi non li apriremo oggi ma li apriremo il 25 dicembre quindi a natale eccolo qua signori qua abbiamo un'altra stanza qua anche c'è un'altra stanza tipo l'armate come si dice qua si entra qua signori abbiamo diciamo un cortile salendo al piano superiore troviamo il bagno e il banco come si chiama il banchiere si può dire il bar il bar ok qua abbiamo la tanto ambito sala di orologi signori le 14 e 09 eccolo qua poi basta signori penso di non farvi vedere altro l'abbiamo vista questo è diciamo il piccolo villaggio della casa di babbo natale spero che questo video vi sia piaciuto mettete tutti un bel like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram sinereo trattino basso yt e niente io vi saluto ciao ciao ciao